È la terza volta che passo di qui, ti stavo cercando. Calmati, forse io non mi sono spiegato molto bene, quello che volevo dire è che io... Oh, vedi, ora te lo spiego. Il fatto è che sono preoccupato per te, perché... Perché tu mi piaci molto, Lala. Ecco, ora te l'ho detto. Oh, non è il caso che tu mi ringrazi, dopo tutto non ho dato una grande prova del mio valore. Ma a cosa serve una vittoria se non sei più vivo per gioirne? Fu questa la domanda che ti posi dopo, prima che scomparissimo in un oceano di luce. A cosa serve una vittoria se non sei più vivo per gioirne? Per salvare un amico.